è ora di andare è ora di andare prepararsi a voltare a destra voltare a destra tenersi a destra un nuovo donna un po' di Andare dritto. Voltare a destra. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Andare dritto. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. 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 Riorientamento. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. E poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.